Ciao a tutti, eccoci qui direttamente dall'Auditorium, ecco qui, grande premio internazionale del doppiaggio. Del doppiaggio, esatto, ecco, con la voce di Peter Griffin, sono andato in toilette e non ho trovato i rotoli di carte di genera, e proprio a volte è il cesso presente di queste sorprese. Sei un grande vino, saluto tutti i tuoi fan. Grazie. Grazie a te, ciao. Ciao a tutti. Ciao.